Grazie a tutti. Io prima di tutto volevo sottolineare l'importanza e ringraziare anche il Presidente De Bernardinis, il Direttore della Porta e tutti coloro che dell'ISPRA hanno lavorato su questo rapporto per lo strumento importante che voi ci date oggi. Io ho sempre paura di questi rapporti perché la mia preoccupazione è che ci ritroviamo oggi a dire bellissimo, bellissimo, tutti lo commentiamo in maniera favorevole, poi dal giorno dopo nessuno si ricorda più del contenuto di questo rapporto. Io non vorrei, lo dico all'ISPRA, lo dico alle commissioni e lo dico anche a me stesso, che questo rapporto facesse quella fine perché sarebbe un peccato non per l'ISPRA o per il Ministero o per il Parlamento ma per il Paese. Perché in questo rapporto ci sono dati che sono essenziali per lo sviluppo ambientale del Paese. Proverò a dare qualche azione dove possiamo utilizzare il rapporto e dove ci può essere utile questo rapporto come strumento di lavoro. Prima di tutto, lo dico al Parlamento, io reputo che sarebbe opportuno che si arrivasse nel più breve tempo possibile all'approvazione del disegno di legge sulla tutela del suolo. Perché questo è un passo importante e penso che questo rapporto nella fase finale di approvazione di quel disegno di legge possa essere uno strumento per migliorare ulteriormente quel disegno di legge. Io vorrei che questo processo fosse concluso, e questo è il secondo tema, prima dell'inizio del semestre europeo. Noi avremmo una grande occasione che è la presidenza del semestre europeo negli ultimi sei mesi dell'anno. Se noi arrivassimo in quel momento con una legge sulla tutela del suolo già approvata dal Parlamento, noi potremmo spendere quella legge in sede europea. Guardate, nel primo Consiglio dei Ministri uno dei temi più discussi, perché non c'è la convergenza dei vari paesi, è stato proprio quello della difesa del suolo. Su quello si fa fatica a trovare una convergenza fra tutti i paesi europei. Allora sarebbe importante per il nostro paese arrivare in quella sede con una legge già completa su questo argomento, perché potrebbe essere di esempio agli altri e su questa legge provare a trovare, sarà una questione molto difficile, ma almeno incominciare una discussione all'interno dell'Europa sulle basi del nostro progetto di legge. Credo che noi, in questo caso il Ministero, debba cogliere con interesse quanto diceva il Presidente De Bernardinis adesso. I dati, provo a sintetizzare, non possono essere fini a se stessi se non c'è poi un'analisi di provenienza di quel dato e delle azioni che su quel dato si possono costruire. Il Direttore De Bernardinis è stato elegante, ma ci ha riportato con la mente immediatamente al problema della terra dei fuochi. Io domani sarò in Campania perché voglio andare di persona in quella zona, in una delle mie prime uscite, proprio per sottolineare la presenza del Governo nella risoluzione di quel problema. E io credo che l'ISPRA sarà un elemento importante per fare tutte le analisi sul territorio che sono determinanti per capire fino in fondo il problema che abbiamo davanti. Colgo anche un altro aspetto che diceva il Presidente Re Alacci, quello dei fondi europei. E' chiaro che se noi vogliamo investire nella tutela del territorio, penso soprattutto al dissesto idrogeologico, noi dobbiamo mettere il dissesto idrogeologico, la prevenzione del territorio, che passa attraverso anche e soprattutto la tutela del consumo del suolo, la dobbiamo mettere come uno dei punti prioritari nella gestione dei fondi europei. Dobbiamo operare, e questo lavoro ci aiuta molto e deve essere anche uno dei punti di partenza, nell'inversione, lo ricordava prima Ermete, nell'inversione dell'idea che fra i cittadini c'è dell'ambiente. L'ambiente, lo dobbiamo affermarlo con forza, è uno strumento essenziale per la crescita e l'occupazione del nostro Paese. Io credo che questo sia il messaggio principale che noi dobbiamo far passare fra i cittadini. E lo dobbiamo fare con azioni concrete, lo dobbiamo fare promuovendo, ad esempio, dei grandi progetti di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, e in questo incominceremo fra qualche tempo proprio dalle scuole e continueremo su tutti gli altri edifici pubblici, facendo capire che, riqualificando quegli edifici pubblici, noi miglioriamo l'ambiente, sviluppiamo la crescita e sviluppiamo l'occupazione. Perché quando si parla di riqualificazione energetica, molti sono abituati a pensare alle grandi aziende che operano. No, la riqualificazione energetica di una scuola presuppone che ci sia un elettricista o un carpentiere del luogo, del territorio, che vada in quella scuola a fare quella tipologia di lavoro. E noi, se oggi dobbiamo aiutare qualcuno, sono proprio quelli, sono i piccolissimi imprenditori che stanno sul territorio, che oggi hanno bisogno più che mai di quel lavoro, e che se noi gli diamo lavoro, loro assumono gente, quindi sviluppano l'occupazione. Allora, miglioriamo l'ambiente, diamo uno strumento buonissimo per la crescita e la tenuta economica di queste piccole aziende e facciamo assumere dei giovani. Allora, è questo concetto che dobbiamo far capire e far passare nell'opinione pubblica. Permettetemi di chiudere con un invito, che sarà anche uno dei punti principali del mio Ministero. Io credo che se noi vogliamo davvero avere un Paese, dal punto di vista ambientale, migliore di quello che abbiamo oggi, dobbiamo fare una cosa importantissima che deve essere la principale. Trasmettere una cultura ambientale ai nostri ragazzi. Io credo che questo sia indispensabile. Io vorrei avere una generazione, sì di nativi digitali, ma anche di nativi ambientali. Vorrei avere dei ragazzi che, meglio di quello che ha fatto la mia generazione, possano domani risparmiare le risorse naturali, risparmiare appunto il territorio e battersi per un ambiente più pulito. Se noi riusciremo a far passare questo concetto, questa cultura, nei nostri ragazzi gran parte dei problemi che sono contenuti in questo rapporto, noi non ce l'avremo più. Lo so, è un investimento a lungo periodo, è un investimento molto ambizioso, ma credo che sia il momento di farlo. Grazie, signor Ministro. Credo che debbano lasciarci velocemente, quindi io riprendo il percorso così come era previsto, ringraziando sia il Presidente sia il Ministro, grazie veramente anche per la situazione, ma credo che siano riusciti in qualche modo con un filmino e con i due interventi a sintetizzare. Bene, adesso scendiamo un po' sulla parte più di dettaglio. Vorrei, visto che c'è Anna Luisa in sala, voi non sapete chi è Anna Luisa, è una mia vecchia conoscente, oggi dipendente, una vecchia amica, oggi dipendente in realtà. Nell'aprire la parte tecnica, che è anche in parte, tra virgolette, politico-istituzionale, perché abbiamo la rappresentanza della Commissione europea, con cui interagiamo in maniera fortissima. Un altro tipo di discorso che mi sarebbe piaciuto sviluppare era come attraverso ISPRA il sistema agenziale poi si raccorda all'Agenzia europea per l'ambiente, come per altre rappresentanze si raccorda alla stessa Commissione, alle stesse iniziative, agli stessi programmi della Commissione, come cerca anche di influenzare, lo dico serenamente, di fare lobby relativamente alla disponibilità dei finanziamenti su vari diversi assi prioritari. Ricordo a tutti che sul settore spazio, sulla parte servizi, nel passato, nel passata tranche dell'FP7, siamo passati da una percentuale di successo del meno del 3% o oltre il 12%, quindi voglio dire, questo ha un suo valore paese estremamente importante. Però in omaggio a Anna Luise vorrei ricordare un'immagine che mi ha portato un po' ai concetti di prima. Sono nella tarda età del 1986-87-88 e allora ci occupavamo di desertificazione. E io ero nell'epicità eroica della ricerca, per cui non si guardava nel proprio paese, si guardava fuori, si guardava l'Africa, si guardava l'Asia. Nel guardare l'Africa, uno delle immagini, si usavano immagini satellitari anche, e già, se mi consentite questi due, sono un attimo un'affermazione di orgoglio. E quello che si vedeva, si vedevano dei punti che crescevano nel tempo attorno a dei punti, e quei punti non erano altri che il bush che spariva, cioè la boscaglia che spariva attorno ai punti, ai pozzi, in cui l'uomo in qualche modo aveva imparato a esplorare il sottosuolo, aveva fatto quelli che erano dei pozzi scavati, Doug Wells si chiamavano, e attorno a questo si alimentavano quello, si abbeverava, c'era l'abbeverata dei drometari, nonché di altre specie domestiche, le capre. E le capre. E le capre si mangiavano tutto il bush, e non solo, e gli umani si mangiavano il bush, perché tagliavano e alimentavano il fuoco con quel bush. E poi c'erano i bambini, che prima facevano 500 metri, poi facevano un chilometro, poi facevano 10 chilometri per andare a prendere l'acqua. E quella parte diventava bianca e sempre più ampia. E diventava sede, quella che si dice cava, sorgente ad esempio di quella polvere, di quella polvere che noi vediamo, vi faccio vedere dei piccoli elementi che noi chiamiamo componente africana delle polveri del PM10, del PM10 nella qualità dell'aria. Allora è impossibile, consentitemi la mia anima scientifica, e non applicare un metodo scientifico alla costruzione di servizi di pubblica responsabilità. Questo è l'essenziale di questo rapporto, così come del rapporto sui pesticidi, così come degli altri rapporti che il sistema agenziale sull'ambiente urbano elabora. Credo che questa sia la missione comune del Paese, non in antagonismo, ma in concorso tra tutti i soggetti. Prego, Stefano La Porta. Grazie. 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 Grazie.